e mancano pochissimi giorni alla blazer conf cominciamo a conoscere i protagonisti i speaker di questa conferenza e oggi sono con Antonio Ventitti che è solution architetta in Blacksyn. Ciao Antonio grazie di essere qui con noi. Ciao Michele. Allora raccontaci un po' di te cosa fai a lavoro, a vita privata, quali sono le tue passioni? Allora io sono un solution architetto come dicevi in Blacksyn, gestiamo progetti medio grandi o enterprise e anche con blazer, abbiamo diversi progetti in blazer anche in produzione e sono qui a raccontarvi la mia esperienza di tutti i giorni. Come hobby sono un capo scout per cui mi piace l'avventura e cosa c'è di più avventuroso di tutto. Tra l'altro Antonio è un membro attivo della nostra community, la segue fin dagli inizi, ha scritto anche un articolo interessante, ha partecipato anche alla blazer conf dell'anno scorso e siamo felicissimi di averlo quest'anno in agenda che tra l'altro chiuderà la giornata alla 16 e 30 parlandoci di blazer app sia i cd. Ci racconti un po' quali saranno i temi che affronterai? Sì, diciamo che ogni applicazione, ogni progetto ha bisogno di alcune regole di continuous integration, quindi ogni volta che qualcuno del team di lavoro, che sia un team formato da un solo sviluppatore, dobbiamo darci delle regole che permettono di testare il nostro codice quando viene integrato e poi di portare in più, diciamo, automaticamente possibile questo codice in produzione. Quindi parleremo un po' di questi due aspetti che hanno a che vedere con la gestione di un progetto e li declineremo in chiave blazer con tutto quello che significa, quindi blazer woesman anziché blazer server, anziché librerie di componenti da riutilizzare dove probabilmente l'artefatto sarà una libreria vera e propria da pubblicare da qualche parte. Certo. Questo è un po' quello che... Parlare di qualche stack particolare, tecnologico? Parleremo di, diciamo, applicheremo queste cose su due grosse piattaforme, che sono GitHub e Azure DevOps, che ad oggi, diciamo, nel panorama Microsoft coprono la parte di continuous integration e continuous drive e molto altro ancora, ne guarderemo solo questi due aspetti e li confronteremo tra di loro per vedere quali sono le differenze a livello di, diciamo, di file da generare sostanzialmente. Perfetto. Allora, ti ringrazio, ci vediamo alla Blazer Conf e tra l'altro chiuderei la giornata dell'agenda, quindi avrai il compito di chiudere gli svegli. vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente all'evento, sia che vogliate partecipare da remoto, sia che vogliate esserci in presenza a Roma e vi invito fortemente a venire a Roma qualora possiate, perché dal vivo è sempre un'altra esperienza, no? Però nel caso non possiate trasmetteremo i talk tecnici anche via streaming. Grazie Antonio, ci vediamo. Ci aspettiamo tutti. Ciao a tutti.